Ciao a tutti, sono Graziella dall'Italia e dopo la mia stupenda esperienza con il 9010 MedBand ho voluto finalmente provare anche il test gratuito del bicchiere di vetro energizzato tramite il teletrasporto di entanglement quantistico ora non più fantascienza, per cui da provare assolutamente, non fatevi sfuggire questa bellissima opportunità perché sinceramente devo dirvi che anche questa prova che sto facendo da 5 giorni in qua è veramente straordinaria perché è come avere a disposizione continuamente acqua fresca di sorgente in effetti l'acqua di rubinetto versata nel bicchiere caricato con questa tecnologia è veramente diversa ha un gusto piacevole, chiara, limpida, sempre fresca anche dopo un'ora che magari lascio il bicchiere lì è quasi setosa al palato, è leggera, morbida mentre l'acqua è versata in un bicchiere normale, non caricato, appena l'ho bevuto l'ho rigettata subito nel lavandino in quanto veramente orribile, è pastosa, pesante, come anche questa acqua di bottiglia che ho acquistato giorni fa proprio per fare il test e si nota veramente la differenza anche questa da buttare in questo bicchiere è veramente tutto un altro mondo l'acqua sinceramente, per cui spero tanto di non romperlo presto perché è l'unica occasione che mi è stata data per cui al limite ci faccio un pensierino, magari acquisterò la bottiglia perché è un'occasione troppo rara non va sprecata tra l'altro rispetto a prima dicevo, tra l'altro rispetto a prima bevevo meno bicchieri d'acqua ora non ne posso fare a meno per cui ho notato anche che dopo mangiato mi fa digerire e quindi grazie è immensa gratitudine a dottor Olin e a tutto il suo staff per questa bellissima altra occasione che mi è stata regalata nuovamente e grazie ancora un caro saluto a tutti buone feste e cin cin spero solo che non si rompa ciao ciao